Ultimo giorno di comizi e appelli al voto all'Aquila, domani silenzio elettorale e poi alle urne, domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Questa sera sul Rete 8 alle 22, gran chiusura della campagna elettorale per le amministrative, con l'ultimo confronto tra i quattro candidati sindaci, Pierluigi Biondi, Americo Di Benedetto, Stefania Pezzopane e Simona Volpe, con il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono e il giornalista del centro, Giustino Parisse. Quattro candidati sindaci e 16 liste in totale. A sfidarsi sono l'uscente Pierluigi Biondi, il ricandidato dalla coalizione di centrodestra, con sei liste di appoggio, il consigliere regionale Americo Di Benedetto, che si presenta con il passo possibile con tre liste di appoggio, la deputata del PD Stefania Pezzopane, con sei liste anche lei, e Simona Volpe, la candidatura a sorpresa dell'ultimo giorno, con l'unica lista, Liber Aquila. Campagna elettorale ormai agli sgoccioli davvero, con un tour de force di ogni candidato tra l'Aquila e frazioni. Ecco gli appelli al voto. È utile dare continuità ad un'amministrazione che ha portato risultati concreti, perché il centrodestra è una coalizione unita, è una coalizione compatta, è una coalizione con gente di esperienza, ma anche con tanti volti nuovi, perché il centrodestra è riuscito a mettere in sicurezza la ricostruzione, a riorganizzare la macchina comunale, a trasformare gli eventi cittadini in meri attrattori di gente, di turismo e espressione di cultura profonda, perché il centrodestra nel prossimo quinquennio sarà in grado di mettere a frutto tutte le opportunità che derivano da questa straordinaria fase storica. Abbiamo la voglia di metterci in discussione per governare la città, fuori dalle parti, senza retroprensieri o tatticismi politici, senza interessi di partito, ma solo ed esclusivamente concentrati sul buon governo della città. Lo faremo con una grande disponibilità, con la dedizione totale all'attività amministrativa, avendo rispetto educazione politica e relazionale, che da molto tempo manca alla nostra città, concentrati sui problemi fondamentali della stessa, dal degrado delle frazioni, ai problemi della sanità, ai problemi urbanistici, ai problemi della ricostruzione pubblica, delle scuole non ricostruite. Tutto ciò che in questi anni si doveva fare in realtà è ancora appartenente alla ratitanza. L'Aquila deve guardare al futuro. Il mio progetto è un progetto per una sfida nuova, per un cambiamento reale. Dobbiamo completare la ricostruzione e insieme ottemperare un piano strategico che dia sviluppo e futuro ai giovani, alle donne e alle imprese. L'Aquila deve essere sempre di più centrale nella regione Abruzzo e nell'Appennino. Ecco perché promuoverò da sindaca il patto per l'Aquila, con l'Europa, il governo, la regione, tutti a concorrere perché l'Aquila davvero torni ad essere una città forte, nuova e viva. Intanto lo slogan, Seminiamo futuro, dietro a questo progetto c'è un'idea rivoluzionaria, ossia riconoscersi tutta la comunità in noi. Siamo qua con questa lista Libera Aquila per spiegare alla cittadinanza che è finito il tempo dei partiti, è finito il tempo della rappresentanza di una parte del tutto, siamo qui per lavorare tutti insieme con le nostre competenze in un concetto di età senza barriere, in un concetto intergenerazionale dove partendo dai bisogni arriviamo alle soluzioni. L'obiettivo è migliorare il benessere della città, della comunità e di ciascuno nei propri bisogni.